Ciao! Soni di svegliarti e poter godere di una splendida vista mare ma non vuoi rinunciare alle comodità dei servizi cittadini? Allora questa è la soluzione che fa per te. Siamo a Biceglie, in via dell'Olio e più precisamente nel complesso residenziale Ibis Residence, immerso nel verde. L'abitazione si sviluppa su due livelli. Entrando troviamo un ampio patio di 40 metri quadri, ideale per pranzi e cene all'aperto o per godere di momenti di relax. Marcando la porta d'ingresso ci accoglie un ampio e luminoso soggiorno. Proseguendo giugiamo nella cucina realizzata sulla veranda esterna. A completare il piano terra abbiamo un pratico ripostiglio per le vostre dispense e un comodo bagno. La scala interna ci accompagna nella zona notte, dove troviamo due comode camere. Una adattata a vano studio, luminoso, con accesso sul balcone, spazioso, dove godere di una fantastica vista mare. L'altra invece ha di vita camera da letto. Servita da un balcone che offre un affaccio sul patio privato. Ed ancora un bagno in stanza con angolo lavanderia. Insomma, un'occasione da non perdere per unire qualità della vita e funzionalità dell'abitazione. Contattaci ora! Alla prossima, ciao!